Amici di LumaFusion Italia, benvenuti in questo nuovo video che è più che un nuovo video, è un ripasso di tutti i tutorial perché visto che ci saranno delle novità, a quanto avete letto forse sul sito di LumaFusion e su quello che ho postato praticamente sulla pagina Facebook attenderei un po' di novità, quindi ripassiamo un pochino tutti i tutorial e così vediamo se avete capito tutto io ho capito quasi tutto quindi vi aspetto al prossimo tutorial, un abbraccio da Gennaro, a presto Grazie a tutti